Mi trovo presso il Cineteatro La Providenza, sto per incontrare Don Valeriano Pomare, direttore artistico di questo fantastico Cineteatro, per tracciare un bilancio dell'edizione non soltanto teatrale ma anche di film e di tanti eventi che sono succeduti qui da ottobre 2018 fino a fine maggio e inizi giugno 2019. Anche qui sempre in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano la Diocesi ogni anno organizza questa stagione teatrale e in genere inizia nel mese di novembre e poi termina nel mese di marzo. Sono sempre sette spettacoli e sette spettacoli importanti perché sono comunque spettacoli che girano nei teatri nazionali. Quindi per noi è veramente un vanto poter offrire questa opportunità che altrimenti le persone per poter usufruire di spettacoli del genere dovrebbero comunque fare molti chilometri, arrivare perlomeno a Salerno, Napoli se non più lontano. Infatti attori sia teatrale che di cinema che di teatro sono stati qui in questi anni e soprattutto in questa ultima stagione. Però voi ospitate tantissimi altri eventi legati al territorio e non solo? E non solo, c'è la stagione teatrale, poi c'è la stagione teatrale amatoriale team, poi c'è una stagione di musica classica, poi c'è il cinema tutti i fine settimana da settembre fino a fine maggio e poi tanti altri eventi diocesani ma anche non diocesani. Per esempio ogni anno per le scuole vengono offerti spettacoli da compagnie che organizzano sul territorio questo tipo di proposta. Quali sono le difficoltà appunto nel portare avanti una struttura come questa, che ovviamente è voluta fortemente appunto dalla diocesi, però ci sono comunque anche delle difficoltà, lo dobbiamo dire, sicuramente. Sì, sono le difficoltà che sono legate prevalentemente all'aspetto economico perché comunque per gestire e mantenere aperta una struttura del genere servono dipendenti, servono tante cose e la gente viene, partecipa al cinema, anche al teatro, però sono numeri che, soprattutto il teatro, sono numeri che ogni anno diminuiscono perché purtroppo dobbiamo dire che il pubblico si sta invecchiando e le nuove generazioni non sono molto vicine a questo tipo di proposta culturale. Quindi la fatica è questa, interessare i giovani, soprattutto i giovani, le nuove generazioni, a questo tipo di proposta. Grazie. Grazie.